Bentornati amici e amiche, ma oi, cosa fateli fermi? Dovete scrivere la letterina, l'avete già scritta la letterina? No, sì, se non l'avete scritta dovete muovervi, non è che possono arrivare all'ultimo secondo tutte le letterine cium 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 cium, dovete sbrigarvi, scrivete letterina allora, attenzione, la letterina non è che si deve scrivere così a caso, c'è un modo specifico per scrivere la letterina adesso vi faccio vedere, allora, prendete carta e penna e iniziate con no perché serve, allora, la, serve, allora, allora, ca, se non è così la, no, no, se no si buca serve carta, penna e un tavolo, se non avete il tavolo, chiedetelo nella letterina chiedete tavolo perché altrimenti non si riesce ora che avete il tavolo, la carta e la penna dovete scrivere la letterina bisogna iniziare sempre con caro babbo natale, quest'anno penso di essere stato e lì dovete mettere buono, cattivo, cattivello, buonino, buonello non lo so, qui dipenderà voi, dovete pensare, ho fatto il bravo, ho fatto la brava eh, quello sta a voi, dovete essere sinceri, eh, mi raccomando dopo che avete scritto babbo natale, quest'anno sono stato inserite come siete stati potete elencare le cose che volete per il vostro natale eh, visto che quest'anno sono stato buono, per natale vorrei e lì vale mettere tutto, dovete mettere di tutto, giocattoli, giochi, videogiochi altre, tranne, ah, importante, importante, non valgono eh, superpoteri eh, unicorni e pianeti, quelli purtroppo non riusciamo ancora a farveli avere stiamo lavorando, stiamo lavorando dopo che avete inserito quello che volete, mi raccomando, scrivete anche cosa farete l'anno prossimo per essere sempre più buoni eh, perché non si può mica chiedere basta bisogna anche essere pronti a dare, in questo caso, a dare azioni buone una volta che avete finito la letterina dovete metterla dentro una busta e darla alla mamma, al papà oppure al parente più prossimo il quale la metterà o in mezzo all'albero di Natale oppure in una buca delle lettere apposita se non avete la carta o le lettere o la busta potete dire sempre alla mamma o al papà di mandare un bel messaggio anche un whatsapp va benissimo a Babbo Natale così lui è sicuro che ha tutto l'elenco delle letterine di tutti i bambini del mondo capito? ora avete tutte le istruzioni mi raccomando l'elenco delle cose che volete ma anche le azioni buone che farete eh, mi raccomando dai 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 a scrivere, a scrivere se no arrivano tutti all'ultimo forza, forza che ci mancano un sacco di letterine noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando scrivete forza che non posso arrivare all'ultimo dai 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 eh, devono scriverlo ciao dai ciao 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 ciao